Riforma sulla giustizia. Ritengo ingenerose le critiche dei giustizialisti, dei cosiddetti manettari. Prima di leggere il testo della riforma io ho letto i nomi dei componenti che quella riforma l'hanno scritta. Gente come il presidente Giorgio Lattanzi, come il professore Vittorio Males, come la stessa ministra Marta Cartabbia. Ragazzi queste sono persone che ne sanno a pacchi di processo penale, di diritti costituzionali e se non ci affidiamo a loro per risollevare le sorti del processo penale in Italia, a chi ci dobbiamo affidare? Vedete il processo penale non è solo manette, non è solo carcere, la pena non deve essere punizione, deve essere occasione per la rieducazione della persona condannata. purtroppo fin quando non capiremo questo, in Italia non potremmo mai crescere.